ben tornati a tutti lettori di outdoor upgrade siamo qui con il family hub di samsung il frigorifero l'avevamo già visto al cs di las vegas per chi ci segue lo sa già il frigorifero appunto con questo hub basato su android che ci permette di fare un sacco di cose interessanti ci permette ad esempio di vedere cosa c'è all'interno del frigo attraverso le videocamere che troviamo dentro possiamo vedere appunto i prodotti che sono entro e lo possiamo vedere anche da remoto sullo smartphone quindi quando siamo al supermercato ci siamo dimenticati se abbiamo o no il latte in frigo lo andiamo a controllare direttamente nello schermata che ci fa vedere cosa c'è all'interno del frigo andiamo a contare in questo caso abbiamo delle alici abbiamo un mezzo limone o del mais aperto una birretta anzi due birrette una moretta e una dub possiamo poi fare tante cose appunto avere elenco degli alimenti che abbiamo dentro quando mettiamo dentro un alimento possiamo indicargli la data in cui l'abbiamo messo dentro la data di scadenza e farci avvertire nel caso in cui qualcosa cominci ad essere in scadenza possiamo creare delle liste della spesa e oggi è stata presentata la partnership praticamente con supermercato 24 un nab che ci permette di fare la spesa da remoto in diversi punti vendita scesse lunga cioè copp c'è carrefour praticamente dal dall'app che troviamo qua sul sul frigo possiamo direttamente fare la spesa comprare tutto quello che ci serve senza aprire il frigo possiamo andare a vedere tra la telecamera quello che c'è dentro quello che ci manca fare la spesa e farcela recapitare a casa in giornata o nel giro di poche ore vuole diventare un vero e proprio hub per la famiglia possiamo usarlo come post it virtuale possiamo anche andare a ad aprire altre app ad esempio possiamo anche direttamente ordinare il caffè dal frigorifero possiamo anche utilizzarlo per ascoltare la musica la connettività è wifi o anche bluetooth possiamo ascoltare la radio il tv mirroring possiamo far venire le immagini che stanno vedendo sul tv di casa qua sul frigorifero in modo che magari guardiamo un programma mentre siamo di lens out ci spostiamo in cucina per fare due cose per mettere sulla pasta per cucinare per tagliare qualche ingrediente e ci troviamo le immagini del televisore qua direttamente sul frigo senza soluzioni di continuità abbiamo la possibilità utilizzare i comandi vocali ecco qua vedete connettività wifi e bluetooth il frigorifero c'è in diversi tagli in questo caso è quella a singola porta con sotto il nostro cofre classico prezzi di belle grosse dimensioni forse non lo vedete ma è un frigo bello grande con questo prodotto samsung appunto vuole far diventare il frigorifero il centro della nostra vita casalinga il vero e proprio family hub attorno cui ruota tutta la vita della famiglia dalla spesa alla musica quello che vogliamo fare insieme ai posti dal calendario la nostra bacheca diventa il frigorifero ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.